ciao diara e benvenuta per chiudere questa edizione online del freelance camp diara aiuta le donne a lavorare sul loro rapporto con i soldi che sono uno dei temi principali di cui noi abbiamo parlato in tutti questi anni ti lascio il palco allora condividiamo le slide quindi oggi non solo numeri l'importanza del nostro rapporto con i soldi per far quadrare i conti perché i soldi sono il mio cavallo di battaglia e anche il cavallo di battaglia del freelance camp è perché appunto i soldi veramente influenzano ogni aspetto della nostra vita se siamo freelance è per guadagnare e per vivere però purtroppo se andiamo a guardare sia la nostra vita ma anche l'esperienza delle persone che conosciamo ci rendiamo conto che in maniera generale ci preparano poco a gestirli sia da un punto di vista pratico quindi abbiamo visti il mitico file excel di alessandra e di enrico ma anche da un punto di vista emotivo che l'aggettivo che uso per riassumere il discorso del nostro rapporto con i soldi poi se guardiamo proprio il lato più pretamente sul far quadrare i conti perché è così importante perché far quadrare i conti è proprio una delle dimensioni del benessere finanziario e per benessere finanziario intendo proprio il fatto di essere soddisfatte o soddisfatti della nostra situazione finanziaria che non è collegato a un numero assoluto perché ognuno di noi poi ha esigenze valori e desideri diversi però se vogliamo appunto sentirci bene far quadrare i conti è un elemento in precedi in precedi in precedi vabbè non ce la faccio è un elemento essenziale perché appunto è collegato al nostro senso di sicurezza nel nel presente e quindi ok cosa ci vuole concretamente per far quadrare i conti in questo momento anche se voi mi rispondete io non posso vedere le risposte e quindi ho chiesto l'aiuto del pubblico in anteprima e ho fatto la domanda su instagram nelle stories a chi mi segue e quindi voglio condividere con voi le risposte che mi sono state date allora intanto una risposta comunque molto autorevole perché è quello di paola nosari che è monumento collega che stimo tantissimo e paola scrive ci vuole determinazione consapevolezza intenzioni chiare e anche budgetizzazione quindi fammolo file excel dei conti della serva tra l'altro poi un'altra risposta è stata capacità di previsione e di organizzazione un'altra ancora non avere le mani bucate con poi le moggi che ride con le lacrime agli occhi e infine l'ultima risposta che ho avuto è stata capire le entrate uscite voci di spese spese impreviste e anche spese di impulso quindi andando a guardare tutte queste varie risposte vediamo che effettivamente per far quadrare i conti non sono soltanto i numeri quindi famoso budget le voci di spese cosa sono le mie entrate cosa sono le mie uscite c'entrano anche delle cose che sono proprio collegate al nostro rapporto con i soldi alle nostre emozioni perché ad esempio nostro carattere anche quindi la determinazione la consapevolezza non avere le mani bucate che noi possiamo pensare che il nostro nostro strato diciamo distintivo e anche se pensiamo appunto alle spese di impulso quando è che spendiamo impulsivamente quando siamo appunto spinti dalle nostre dalle nostre emozioni quindi non è soltanto una questione di di numeri quindi far quadrare i conti sono tutta una serie di comportamenti che noi dobbiamo adottare e lì ho chiesto in aiuto il consumer financial protection bureau statunitense che aveva creato questo bellissimo diagramma per spiegare da cosa dipende il benessere finanziario e lì mi interessa proprio la parte dove c'è appunto scritto comportamenti finanziari perché se pensiamo appunto a cosa serve per far quadrare i conti vediamo le risposte che io ho ricevuto quindi c'è la parte del budget quindi faccio il mio budget poi c'è la parte di monitoraggio quindi il file di consultivo che ci ha fatto vedere Enrico e poi come si passa dal budget al consultivo è proprio il nostro uso dei soldi così cosa facciamo e cosa non facciamo con questi soldi che noi abbiamo e quindi questi comportamenti finanziari da cosa dipendono dipendono ci dice il cfpb dalle opportunità disponibili quindi ad esempio se io non ho il file excel come lo riempio quindi ora oggi abbiamo avuto questa bella opportunità di avere questo file che noi possiamo utilizzare poi dipende anche dalla nostra personalità e del nostro atteggiamento dipende anche dal contesto della decisione quindi ad esempio al momento questo file excel è facoltativo se per qualche motivo diventasse obbligatorio a questo punto lo dovremmo utilizzare tutti e tutte e poi dipende anche dalle nostre conoscenze dalle nostre competenze abbiamo visto i commenti rispetto al file di Enrico che dicevano mi rendo conto che uso excel per il 10 per cento delle potenzialità oppure quello che ci diceva Laura che mancano anche delle conoscenze a livello fiscale per poter sfruttare al meglio il nostro regime e il nostro o la nostra commercialista quindi tutte queste cose a loro volta da cose dipendono anche dipendono anche appunto dal contesto economico e sociale perché noi non viviamo nella nostra bolla viviamo appunto in mezzo al mondo e tutto quello che sta succedendo ci influenza quindi prendendo sempre l'esempio di quello di cui ha parlato Laura ad esempio il cambiamento della riforma fiscale andrà a cambiare tutta una serie di cose e di conseguenza anche i nostri comportamenti ricordo qualcuno che diceva se risparmio dei soldi prometto a Draghi che li spenderò tutti quindi il contesto in generale va a influenzare il mio il mio comportamento quindi abbiamo visto questo passiamo appunto al rapporto dei soldi che rispetto alla slide successiva è quello che uso per esemplificare un po' il nostro la nostra personalità e anche il nostro atteggiamento rispetto ai soldi quindi se pensiamo ai soldi e a come le usiamo come li guadagniamo eccetera tendenzialmente cosa proviamo cosa pensiamo cosa facciamo ognuno di questi tre elementi influenza gli altri quindi se penso all'idea di creare il mio budget quali sono le emozioni che provo che fanno sì che creo questo budget oppure non creo questo budget quali sono a loro volta anche i pensieri che fanno sì che creo il budget o non creo il budget poi una volta che io l'ho creato o non ho creato questa cosa che emozioni mi provoca che pensieri mi provoca sono comunque tranquillo tranquillo oppure me ne faccio una colpa cioè bisogna proprio riflettere su tutte queste su tutte queste cose perché noi magari tendiamo era silvia che parlava appunto di questa vocina critica che veramente sempre pronto a darci addosso ok va bene la vocina sta lì a parlare però cerchiamo di capire cosa c'è cosa c'è dietro perché noi siamo sempre estremamente logici quando non capiamo perché stiamo facendo qualcosa e perché non abbiamo ancora scoperto il vero motivo per il quale stiamo facendo appunto o non facendo questa cosa e quindi come facciamo appunto a capire meglio il nostro rapporto con i soldi anche lì andiamo a capire cosa lo sta influenzando un po l'abbiamo visto nella slide sul benessere finanziario però lì più non lo specifico quindi cos'è la nostra personalità quindi siamo siamo una persona più spontanea che ama di più la spontaneità o chi ama di più la pianificazione questa era un avrà un'influenza sul fatto di fare un budget o non fare un budget e poi rispettarlo non rispettarlo e in quale misura la nostra famiglia come sono stati cresciuti abbiamo avuto un esempio di si fa un budget si segue il budget oppure no cosa ci dicevano i nostri genitori la famiglia più più allargata ma anche le nostre esperienze personali abbiamo già provato a fare dei budget ha funzionato non ha funzionato eh quali conclusioni abbiamo tratto da queste esperienze e poi eh in maniera anche più larga perché di nuovo non viviamo nella nostra eh bolla sia la nostra personalità la nostra famiglia le nostre esperienze personali sono anche loro eh influenzate appunto da eh la società la cultura la religione la spiritualità eh in media quindi cosa si dice in generale rispetto alle cose quindi se uno pensa parlare dell'argomento delle pensioni nella chat ah ma tanto in pensioni non si vedrà niente in che modo appunto mi influenza quello che penso e poi quello che faccio se ha senso farmi la previdenza complementare o non o non farmela eh in alcune eh religioni viene anche contemplato il fatto magari di dare eh dei soldi e quindi questo lo vado a prevedere nel mio budget poi in media cioè cosa si sente alla radio cosa si legge su internet cosa si vede eh in tv tutto questo va influenzare appunto eh sia quello che pensiamo quello che proviamo ma anche quello che facciamo eh con i soldi detto questo concretamente perché qua eh toolbox quindi dobbiamo avere degli strumenti concreti eh una delle cose che a me piace molto è proprio il journaling quindi prendere carta e penna e scrivere quello che ci passa per la mente così che eh mettendolo mettendolo nero su bianco eh lo rendiamo più eh concreto più visibile e poi eh se questa cosa la facciamo regolarmente poi possiamo tornare indietro per vedere comunque eh le le differenze i progressi che che abbiamo fatto quindi io eh tre domande tre frasi da eh completare che possono cominciare ad esplicitare eh perché riuscito o non riuscite a far quadrare i conti e quindi eh questa la prima domanda che potete farvi è non si dovrebbe anzi la frase da completare non si dovrebbe mai spendere soldi per e scrivete si dovrebbe sempre spendere soldi per e scrivete sempre e poi dal punto di vista dei soldi merito e anche lì eh scrivete eh l'idea lì è proprio scrivere in maniera molto eh libera l'ideale se potete vi mettete un timer poi scegliete voi un minuto per domanda cinque minuti in totale fate quello che eh funziona meglio per voi e proprio scrivete non senza giudicarvi eh e soprattutto se qualcosa vi sembra sbagliato e non volete scriverlo scrivetelo perché vuol dire che è un un pensiero un'idea una credenza che per voi comunque è significativa anche se eh voi dite no ma in realtà io se ci penso in maniera cosciente so che non è vero però non ha importanza che magari voi in maniera ragionata e dicete ma io questa cosa so che non è vera se c'è una parte di voi che ci crede andrà ad influenzarvi. Poi eh un altro strumento che voglio condividere con voi che mi piace molto anche permettere a tacere eh la vocina critica e per prendere questa giusta distanza che ci permette anche di vedere le cose con più ehm oggettività è lo strumento degli archetipi che è stato sviluppato dalla mia mentore Deborah Price con la quale mi sono formata eh al Money Coaching Institute e eh lei eh praticamente usa otto archetipi per descrivere il nostro rapporto eh con i soldi e lì l'idea è che questi archetipi non non è un testo di personalità non è che uno è un archetipo ognuno di noi ha tutti questi archetipi in sé o in base al nostro vissuto alla nostra personalità e anche al momento presente che stiamo vivendo allora si esprimono determinati archetipi e anche determinati aspetti di questi archetipi però eh in linea di massima ogni archetipo ha un po' una motivazione principale che lo spinge eh nel suo uso eh dei soldi quindi per l'innocente è eh la ricerca della sicurezza per la vittima è la sopravvivenza per il guerriero è la maestria per il folle è eh il divertimento il piacere per il martire è il servizio degli altri per il creatore artista è eh la creatività eh l'arte e la spiritualità per il tiranno è il controllo e per il mago invece è la trasformazione e quindi è interessante quando poi noi osserviamo i nostri pensieri i nostri comportamenti le nostre emozioni eh rispetto ai soldi puoi eh capire ma qual è la l'archetipo che sta agendo in maniera più o meno esplicita e quindi dire ok ma io se magari quest'archetipo non mi sta aiutando in questo momento ma cosa gli direi cioè come cercherei di rassicurarlo come cercherei di soddisfare i suoi bisogni e quindi eh appunto a me questo strumento di archetipi mi piace veramente molto per questo per questo motivo e con questo io ho finito non ho fatto caso al tempo eh se poi volete continuare a approfondire il discorso dei soldi parlarne un po' in eh tutte le salse eh a me fa sempre piacere quindi c'è il mio sito internet mi trovate su instagram che dove io sono più ehm più attiva e anche ehm tramite email scegliete voi come volete fare. Grazie Diara davvero è una conclusione fantastica questa degli archetipi per questa edizione del freelance camp online. Sei stata anche bravissima con i tempi perché siamo perfettamente rientrati nel ritardo che avevamo quindi top. Ottimo. Continuiamo la conversazione poi su instagram e adesso ancora per qualche minuto di là nelle stanze nella chat. Grazie. Grazie a voi.